Si è tenuto nella sede della provincia di Chieti l'incontro tra il direttivo dell'UNCE Mabruzzo e una rappresentanza della FIMG per un approfondimento congiunto dell'attuale situazione assistenziale medica territoriale nella regione in generale e in particolare nelle zone interne e nei piccoli comuni. L'iniziativa è nata dall'esigenza di individuare le giuste risposte al fenomeno che sta diventando sempre più grave della carenza di medici di assistenza primaria e continuità assistenziale che si sta determinando anche alla luce delle opportunità di possibili risposte legate al piano nazionale di ripresa e resilienza. Il presidente dell'UNCE Mabruzzo, Lorenzo Berardinetti. Siamo stati interpellati da parte dei medici di base, del sindacato dei medici di base, che stava verificando negli ultimi anni una carenza di personale medico, soprattutto sui comuni montani. Ci hanno chiesto una riunione, per questo ho convocato la delegazione giunta regionale dell'UNCEM per ascoltarli e fare delle proposte. Abbiamo ascoltato la loro posizione, la posizione che cerca proprio positiva, nel senso di cercare una soluzione a questa carenza di medici. L'idea nostra è adesso di convocare tutti i sindaci e le amministrazioni locali in modo che raccogliamo un documento unico da portare alla regione nell'attenzione del presidente Marsirio e dell'assessore Veri e essere ascoltati in commissione. La mia premura sarà qui a breve di sentire anche il presidente dell'ANCI regionale, Gian Guido Alberto, in modo che insieme possiamo veramente fare una proposta condivisa e portare l'attenzione dell'assessore della sanità e del presidente della giunta regionale. Il segretario regionale FIMC Abruzzo, Franco Pagano. Più che un tavolo di concertazione è un tavolo di riflessione tra i rappresentanti dei medici di famiglia e i rappresentanti dei piccoli comuni. Il motivo della riunione è semplicissimo. Oggi in Abruzzo assistiamo a tantissimi comuni privi di medici di famiglia e privi dei medici di continuità assistenziale. È un fenomeno che si aggraverà sempre di più nel corso del tempo perché tantissimi medici andranno in pensione e non c'è il ricambio. La riflessione che si è fatta oggi con i rappresentanti dei piccoli comuni è di proporre, presentare alla regione, al governo regionale delle proposte per cercare di ovviare, di risolvere in parte questo problema.